questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre a fare mostrare action c'è una ring light sparadissima in faccia quanto sono belle le intro cringe bene raga volevo ringraziarvi un sacco per questi 2.500 iscritti veramente di cuore ho deciso di rifare la collezione manga ora visto che mi avete criticato aspramente nel primo video uno dei primi forse il secondo che ho fatto nel canale ormai dobbio aiuto per il disordine questa volta l'ordine sarà assoluto sarà una costante telecamera un po storta capiamo ricordo un'altra cosa cioè non siate troppo malvagi nei commenti si scherza sono passioni sono cose quindi dai state tranquilli non stiamo salvando vite umane e poi la seconda cosa è che a me i manga i fumetti in generale hanno salvato la vita e penso la salvino anche agli altri quindi se voglio posso anche incazzarmi se volete ampliare la vostra collezione manga su manga io ho sempre il codice sconto di di bea che è il codice bea del 5 per cento usate il codice bea per avere il 5 per cento di sconto ma solo oggi e altri giorni usate il codice caverna detto questo iniziamo con la collezione manga perché credo che sarà una cosa abbastanza lunga e molto tortuosa vieni Nicola altarino dedicato ad evangelion e nello specifico ad asca ma non vi preoccupate di asca ce n'è di più sopra con la nuova edizione di là abbiamo anche la vecchia poi ve la faccio vedere ma no queste statue costano un fottio luix elezzi 13 grazie 100 bit caverna mi consiglio una serie manga massimo 180 euro villansaga se ancora non l'hai recuperata fallo stiamo per entrare più o meno in un arco narrativo conclusivo quindi è il momento giusto per prenderla prima che salga a prezzi folli anche nell'usato però è star comics quindi di solito non sale troppo ma stiamoci attenti l'hanno ristampato tutto l'anno scorso quindi lo riesci ancora a trovare e poi mi verrebbe da consigliarti se ti piacciono le mazzate solo le mazzate che è in ganasciura bellissimo secondo me e basta dai queste due il mio angolo dedicato all'or ma più nelle madonna mia c'era tutti i fumetti di giungito il maestro il sommo il sommo dopodiché passiamo a tezuka perché lo so purtroppo a volte la cultura un po noiosa ma ci tocca scherzo forse non lo so mancano sicuramente barbara non c'è one piece ah no ho visto one piece ho visto il cento non mi piace però purtroppo anche lì se non mancano sicuramente barbara e principessa zaffiero che voglio capiamo asano ne ho letti pochi perché proprio non mi piace però purtroppo anche lì se voglio fare una cultura a volte mi godo 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 anche se non popolare opinion io amo particolarmente pluto quindi se qualcuno deve iniziare vabbè ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta scendiamo con akira sono incredibilmente in ordine ragazzi guardate che bellezza perfetto che mi ha fatto innamorare ma la cosa più bella qua e gengar riuscirò da dentro l'uo di pasqua questa è la cosa più bella che non credevo possibile giojonium un'edizione che molto probabilmente non continuerò perché per il costo non mi piace così tanto poi comunque si ferma dopo stardust crusade e visto che di giojo non ho altri manga a parte così parlò ro anche in scibe diciamo che sarei interessata a proseguire in un qualche modo ma ci sta a miss netherland e ne ho già parlato partito da io poi è andato a sfanculare totalmente poi a gioia la gioia la gioia una lettura meravigliosa obbligatoria nana la reload edition in realtà mancano alcuni volumi perché al tempo dicevo vabbè aspetto che escono tutti tutti una volta proprio in cui stare ma sopra azrael di mio fratello alfredo bossiglione ma un salutone non so esattamente dove collocarla devo stamparlo scannerizzarlo comunque questo è il disegno che alfredo ma taglialo taglialo che cazzo ti frega taglialo taglialo come ho fatto io ogni volta che qualche autore mi fa uno sketch sulla pagina taglia taglia la pagina sti cazzi bossiglione mi ha fatto ovviamente di asca dedicato al primo volume di azrael ma guarda 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 mannaggia 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 veramente mannaggia mannaggia veramente c'è il numero 4 variant la sopra senza senso tra l'altro che poi secondo me manca una variant cioè se voi cercate informazioni su questo numero 4 di evangelion non esiste nessuna tranne che tranne qualche copia ovviamente venduta tipo su ebay ma manco è una variant cioè tecnicamente è una variant perché è una copertina diversa ma io sono tipo abbastanza sicuro che in realtà è soltanto una ristampa è solo una ristampa che hanno fatto con una copertina diversa così hanno detto beh dobbiamo fare un'altra tiratura perché tipo è finito mettiamo con un'altra copertina c'è nulla di trascendentale arianto se volete acquistare costa poco veramente poco poi abbiamo berserk collection e berserk sottiletto di nuovo lì sopra abbiamo anche la nuova edizione ma berserk berserk mezzo e mezzo sempre top poi che c'è sta qua gigantomachia questo è kenshin lupen dei volumi giapponesi gigantomachia anche in inglese e dopo di che abbiamo capitano e vice capitano così a rato eeeh qua sommo buta ti taglierebbe le gambe non esiste il vice capitano ma noi sappiamo che il vice capitano è zoro quindi si fottesse sommo buta non li togli nemmeno dallo scatolo poi abbiamo pena revengers che è finito grazie a dio grazie a dio è finita questi tre sono tutti e tre belli questi tre forse mentre blu allora nuvola nord ovest penso qualcuno di voi già lo stia leggendo da un po' troppo bello finchè morti non ci separi secondo me è una grande rivelazione dell'anno scorso bellissima night of the living cat questo è per ride ma è proprio un fumettone di Cristo proprio fumetto fumetto blu giant poi meraviglioso a me mi è piaciuto da subito blu giant la variant che però non continuerò e che Yami ha mangiato c'è insomma benedetto sia quel cane lo sapete uno dei manga più belli del momento abbiamo preso anche le short stories in versione poraccia e look back poi c'è Meshul che mi fa schifo però piace appena no come Paolo questo piccolo gioiellino uno dei primi manga che ho iniziato a collezionare Pandorats ultimi volumi ma gli ultimi volumi sono così perché sono così perché sono così grandi forse alla fine boh abbiamo aumentato un po' e sono molto contenta che adesso stia tornando in auge Pandora Hearts è veramente un gioiello io vi consiglio di recuperarlo se non l'avete fatto non fatevi ingannare anche in questo caso dalla grafica super moe primo perché migliora tantissimo ma poi perché è veramente un tipo di lettura che vi entrerà nel cuore c'è un po' di tutto all'interno eh lo voglio leggere anch'io uno dei migliori seinen secondo me del momento la grafica non è il mio diciamo però vi prenderà tantissimo la storia molto originale bella la caratterizzazione dei personaggi Death Note l'edizione Gold in realtà ho il 4 da qualche parte ma mi mancano l'1 e il 2 perché tanto non c'era misa a mano e quindi ma che cacchio me ne fregava giustamente prendiamoli solo per la copertina fra l'altro pienamente d'accordo con questa logica la grafica che hanno utilizzato per i numeri sulla costina che fino al 3 non so il 4 ma fino al 3 è tipo un font poi dal 5 in poi è tutto un altro font bah ottimo veramente grande panini il tuo volume di Die Dark I am Hero ve ne ho parlato nei video recenti mi sta piacendo poi abbiamo Blue Period manca l'11 non so perché abbiamo a me che manca il Blue Period a me manca qualcosa il 10 perché mi manca il 10 Blue Period non l'ho mai preso One Punch Man non so perché ci sia qui Extra Top Extra diceva One Punch Man incredibile e Crudelia non ho idea un altro piccolo capolavoro infatti l'ho messo bellissimo bellissimo di Gremen sotto sotto vedete che c'è anche un ordine logico che c'è un foglio di che cos'è purtroppo che purtroppo non viene cregato abbastanza di Gremen è una busta è una busta cosa c'è dentro quella busta questo non è concluso con 27 ma diciamo che siamo addirittura ad arrivare tanto nasce uno ogni tre anni quindi ve lo potete anche permettere e poi abbiamo la mia piccola area dedicata a Kaori Yuki un'altrice che non viene stampata da troppo tempo non se la caga nessuno anche perché l'ultima volta che è stata stampata in Italia è stata stampata dalla Goine quindi vabbè non possiamo dire nient'altro vediamo cosa succederà io spero che ritorni un pochino in auge qui abbiamo una parte di manga che non hanno senso tra di loro questo non so perché sia qui ma va bene lo stesso Bayblade BTX Sensei l'embrana di roto tutti mischiano ma poi i numeri senza tutti storti senza un ordine sono Sensei a Bayblade alcuni volumi totalmente a caso che però mi secca buttare via perché mi dispiace scendiamo e invece qui abbiamo City Hunter non chiedetemi perché sono messi così vi ho detto che è tutto ordinato perfetto Dr. Stone che è praticamente concluso le short stories di Boichi visto che mi sono innamorata dell'autore molto probabilmente proseguirò le mie letture con tutto quello che è stato pubblicato e vai vai manca che manca eh sì è Ucaz Origin poi Sunken Rock poi Rakia mamma mia trovare Origin e Rakia sarà una botta in fronte Wallman Hotel però Hotel Hotel vabbè alcune delle storie di Hotel sono anche in short stories quindi volendo non è facile trovare Boichi non è facile ma è mai arrivato il manga di BitX in Italia sta qua c'è il numero 10 di BitX non ce l'ha tutto non so perché c'è solo i 10 mi sono innamorata dell'autore molto probabilmente proseguirò le mie letture con tutto vai vai consigliatissimo Sanken Rock non chiedetemi non chiedetemi perché c'è uno shampoo e perché c'è un olio perché non ne ho idea ne ho un sacchetto di Pandora però abbiamo Videogirli e Videogirlen che vi consiglio caldamente e mi lascio completo il mio video collezione non domandatemi perché qua ci sono dei preservativi non domandatemi perché qua c'è del gel alla alla vaniglia e macadamia non mi chiedete perché qua c'è un anello vibrante per il pene proseguiamo qui con dei soldi molto pochi gli spicci vabbè abbiamo ah boh i soldi sono sempre buoni abbiamo Black Clover fino al 20 e poi abbiamo il 32 è saltato un pezzo incredibile vabbè c'è impegno comunque Black Clover mi piace vabbè i primi 20 proseguiamo con Call of the Night i primi 3 volumi non so se lo proseguirò onestamente e se andrò nell'angolo che vedrete a breve l'angolo del dimenticatoio l'angolo dell'oblio l'angolo oscuro Spyper Family divertente mi piace molto non ho capito benissimo il discorso delle costine ok forse le prime tre sono variant però comunque ma come ce l'ha questa ruolenzione tutto storto ma si cioè cioè allora le prime tre sono variant a parte che le ha messe 2, 1 e 3 boh senza senso brava brava ha aggiustato o era sì una sequenza matematica segreta molto molto bella piuttosto di quello che sembra e tra i gran uno bellissimo bellissimo sto capendo aspettate devo capire ah certo 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 questo è un fatto di Paolo questo è un fatto di Paolo sicuro è un fatto di Paolo questo come come sgattomatto traigan è brutto sospeso dalla chat via fuori dai coglioni vai quelli senza gusto qua non li vogliamo vai a riflettere vai 798 888 no vabbè a parte i numeri storti ha fatto la vecchia edizione di maximum da 1 a 9 dove si fermò poi purtroppo non è più andato avanti e ha integrato con quelli che sono usciti della della jpop poi i primi due di panini ci sta sempre bene dei manga del momento di cui effettivamente c'è bisogno di tornare a parlare ho appena visto che c'è un altro volume che è totalmente disordine ma noi li sistemiamo non importa poi abbiamo Blue Dragon e un libro bellissimo di Mondadori che ha accompagnato la mia infanzia eccolo qua guardate che bellezza andiamo avanti abbiamo Code Geass bellissimo libro su Re Artu è un manga molto carino anche se io comunque consiglio l'anime lo trovo più bello che è stato ispirato il design dalle clamp Hero Tales della Urakawa non ho la più Arakawa scusate non ho la più pala idea perché sia qui non vicino a The Metal Alchemist ma va bene lo stesso il tifone lupoide grazie scimpiamissima pensavo che era il tifone umanoide è cambiato delle variant di manga che non proseguirò anche perché Bungo me lo presta la mia amica Vicky e protegge la mia terra i primi tre volumi perché me l'ha consigliato Kiryu ed è una noia mortale l'attacco dei giganti vabbè non devo dirvi niente sicuramente un altro di me sto guardando vedo sempre i numeri messi a cazzo ma perché Bea ma qual è questa avversione verso una normale sequenza numerica perché non è che no ma questo è storto questo è quello no è una costante ripetuta qual è il problema qual è il problema cioè immagino che qui dietro sia da 1 a 21 poi c'è 22 20 30 4 25 26 fino a 33 con la variant poi 34 ho messi prima perché ho messi prima qual è il problema qual è questo sei affetta da discalculia passaporto non commenteremo che in realtà avevo iniziato a riordinare ma non ce l'ho fatta quindi abbiate pietà di me riordinare come si può riordinare questo cioè tuccai e mette una bomb boom deve esplodere tutto one piece rimane disordinato così almeno per il momento vabbè invece qui abbiamo slam dunk che in teoria giustamente slam dunk con i stand up di Uta perfetto non vedo errori è ordinato però non ne sono sicura al 100% e Uta due Uta così a caso totalmente arriviamo al tanto temuto è celato angolo della vergogna l'angolo dell'omblio prego regia mi passi angolo della vergogna ci sta Dragon Ball quella è Dragon Ball eh quella è Dragon Ball angolo della vergogna Dragon Ball Pampania Anako Kun Soul Eater Bakemono Katari Doro Edoro Solo Leveling nell'angolo della vergogna Senti bea io non so come dirtelo ma penso che la nostra amicizia debba finire immediatamente non posso spiegarti troppo in questo momento perché non ne varrebbe nemmeno la pena sprecare parole fa conto come se io non fossi mai esistito per te si prenderà malissimo il telefono questi questi sono manga che non proseguirò dai la grande avventura non lo proseguirà volumi doppi o variant oppure sono manga che ho letto una volta che so che non leggerò mai più tutte cose che sono qua a fare la polvere e a capire se venderle quando venderle come venderle cosa farci non lo so perché effettivamente se non li proseguirò che cosa ci devo fare e scendiamo invece con una miscellanea piuttosto interessante per cui qui abbiamo alcuni dei miei manga trash ce n'è ovviamente uno Virgin Crisis se fa proprio cacare non c'entra perché in realtà è molto bello però Lost Brain ma no assurdo sia Yu-Gi-Oh che Capitan Tsubasa perché li ho voluti nascondere a Paolo perché li trovo due manga veramente noiosissimi e proseguiamo con un altro manga trash mio un manga di Paolo che io non ho mai record of Fallen Vampire Bellissimo ok perfetto bellissimo record of Fallen Vampire ma a un certo punto è una storia di vampiri poi cominciano ad arrivare gli alieni devono combattere contro gli alieni completamente pazzo fall fuori di testa ah e The Slayers ok no quello l'ho letto non avevo riconosciuto la costina così un po' trash Blazer Drive vabbè solite cazzate un manga che dovrebbe essere destinata all'opinione no 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 non posso andare avanti non posso andare avanti non posso andare avanti sta per dire che Sendedly Sins non va letto non posso andare avanti l'oblio ma che ahimè mi sta ancora accompagnando sto parlando dell'edizione incompleta che non ho voluto ordinare di Seven Deadly Sins i primi nove volumi di Elf and Light veramente mi ritorno di Seven Deadly Sins andiamo avanti ricordavo l'anime che è carino e invece il manga è una merda incredibile insozzante lo dovrei mettere nell'angolo dell'oblio che poi diventa troppa roba dell'oblio e di Monslayer non devo neanche parlare di Monslayer di quanto schifo faccia scendiamo e abbiamo cioè proseguiamo in realtà e abbiamo Radiant di Tony Valente molto molto carino e abbiamo anche Rayearth un piccolo gioiellino delle Clamp che in realtà non ha il minimo senso messo qui visto che le mie poche opere delle Clamp sono di sopra ma in questa libreria non c'è il minimo senso logico me ne sono accorto potrei fare una libreria però non so se farla in ordine di autore o tematica ditemi la vostra qui abbiamo Gundam Wing che pensate è stato il primo manga che io abbia mai recuperato totalmente Shogun E Yatta usato suppongo e pensate che se io e Paolo avevamo l'edizione completa però lui aveva questo questo che io non ho mai avuto che quando ho avuto l'ho letto sempre Gundam Wing bellissimo poi Japan Magazine Pocket bellissimo però purtroppo non uscirà mai in Italia detto ciò poi abbiamo il Japan Magazine che non sono miei mai di Paolo perché ormai si sa ha una certa e invece Shogun E Yatta che ho recuperato usati in una fumetteria che ha fallito dopo due giorni li vendeva a un euro qui abbiamo Maze Shaman King la vecchia edizione quella un pochino poraccio qui abbiamo dei gadget vari ed eventuali di Star Comics mi pare e poi abbiamo Jujutsu Kaisen completo manca il 17 da leggere ancora abbiamo GTO che è un manga molto molto bello l'anime non regge assolutamente il confronto e per me l'esatto contrario in realtà ci sono un sacco di altre serie di GTO che magari con il tempo recupereremo vediamo non lo so e poi abbiamo la vecchia edizione di Full Metal Alchemist non è la Kanzeban non è neanche la Gold è proprio forse è la Gold quella base no proprio quella poraccia raga questa videocollezione mi distrugge io veramente non ce la posso fare non vedete il video mettete un like commentate dopo tutto quello che hai detto veramente ma quale like dovrei vabbè va va perché ah no l'avevo già messo perché non torno indietro sulle mie decisioni anche perché altrimenti sarei un ipocrita l'avevo messo sulla fiducia e la mia fiducia è stata tradita però eh qual è il vostro manga preferito della mia collezione ditemi come posso migliorare l'ordine ditemi non lo so sapendo contare Bea se sai contare da un accento si migliora te lo dico vuoi mettere l'autore perché io veramente sono al limite ragazzi e scegli un tema scegli un tema io di solito faccio storie per ragazze storie di questo autore si ha fatto tanti manga storie di sport poi alcuni sono molto lunghi svegliano uno spazio intero quindi non è che alla fine devi fare chissà che io ho Berserk abbastanza lungo angolo miura sveglia tutto lo spazio disponibile basta e tu lo sai che io ho una stanza una stanza che giochi entra con me e scoprila scopriamo tadaaa ok allora un po' di cose dei pokemon in particolare dei die fermati cioè quindi questa è un'altra libreria a parte lc dei gift che mi hanno inviato si si era entrata Bea da qua e dei plushies che mi sono presa dopodiché abbiamo Frieren la variant francese questa non la guardate questa l'ho già promessa non esiste sta solo inquinando il mio spazio vitale poi abbiamo Berserk la nuova edizione ovviamente poi questa sarà tutta la mensola dedicata a Berserk e così cade in un attimo stava sopra un altro regalo di Max grazie mille Max il grande libro di Stephen King devo ancora avere il tempo di leggerlo questa sarà anche la parte dedicata alle novel italiane in generale per ora abbiamo Metamorphosis Sottopelle I Cavalieri dello Zodiac con questa nuova edizione che Paolo ha ordinato per sbaglio perché voleva la variant di zero calcare perché è scemo e non so perché sia qui anche questa nuova la inquina che è il mio spazio vitale poi abbiamo Afro Samurai ma promessa a chi e soprattutto ma perché noi dovremmo chiederti qualcosa è la tua libreria non è che ti diciamo scusa Bea ma questa la vendi te la togli cioè perché dovrei domandarlo non lo so la caduta di Macbeth la fattoria degli animali fuoco nelle viscere questo non ve lo posso mostrare è molto bannabile abbiamo il mio nonnino no 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 io le viscere le apprezzo che stanno qua mi vegliano beh la nonnina c'è la nonnina in realtà ogni giorno mi rompe le palle per come i miei caratteri una povera nonna e dei giochi di carte l'angolino dedicato a Belle la Hime di Crunchyroll che è qui che ci guarda che ci veglia e sa se guardate cose illegali non fatelo non fatelo brutti stronzi di merda poi abbiamo spiriti il bip più fassiloso del mondo che comunque non ha coperto la voce quindi inutilissimo si è sentito chiaramente stronzo di merda perfetto qui abbiamo una sezione dedicata ai vampiri trash con Rosenblad che sicuramente concluderà perché il trash mi piace e il mirroir che è molto molto carino la regia sta facendo dei guizzi registici così incredibili non si concluderà mai per questo io lo adoro no non è per questo è Shadow House ok se finisse questo sarebbe veramente il top vorrei recuperarla questa edizione allora ricordo di avere il tarocco numero 0 non so dove li davano i tarocchi però ricordo di avere il tarocco numero 0 non mi ricordo dove usciva lo 0 poi per ogni numero usciva un tarocco corrispondente ma poi pure X è tutto storto in realtà poi aggiusta Shadow House X non capisci niente 1 2 3 4 5 6 13 ma poi 7 8 9 10 tutto al contrario poi abbiamo il mondo di run bellissimo cioè sempre occupato di quello X e le clamp è un casino poco a finirlo ve lo consiglio davvero caldamente ma questo è stupendo il mondo di run è stupendo mi manca il 4 come potete vedere lo concluderò mi piace tanto Idem per Atelier of WeChat questi sono tutti i manga che vi consiglio davvero caldamente My Dress Up Darling un po' meno è divertente ma niente di più Kaiju numero oh e cosa dici divertente niente di più è la vita 8 perché questi stanno vicini a questi non c'è un senso vi dico forse un giorno lo organizzerò me ne sono accorto il bundle nuovo della variant dei fiori del male una lettura che feci molti anni fa adesso la stanno ristampando molto molto bello e bentornato Alice che non vedo l'ora di leggerlo number 5 di Matsumoto pure questo pure il cofanetto ma come ma perché ma è un light motive lo fa apposta perché pure dentro ma sono dentro il cofanetto e sono solo due numeri c'è il minimo il minimo che poteva sbagliare pure quello secondo me lo fa per forza apposta dai è impossibile voglio capire One Piece dai sono cento e passa numeri messi negli scatoli dice vabbè non li voglio sistemare ci posso capire ma qua sono due è il minimo di una serie due pure questo perché qui non lo so ho scinocco anche questo ve lo consiglio caldamente Sakamoto Days abbiamo due numeri uno perché uno è una variant e l'altro non è una variant incredibile non l'avreste mai detto comunque mi sta divertendo poi proseguiamo dove vuole andare la regina ok con Shangri la Frontier in realtà lo sto apprendendo ma ho letto solo il primo volume ma lo concluderò lo stesso non posso dire per Alice in Borderland perché lo sto amando adorando è bello è bello Alice in Borderland è molto molto carina Friaren sono indietrissimo ma mi piace Dandadam sono in pari bello divertente molto carina il numero 4 con il calendario molto molto carina che ho già quello di Friaren però è molto carino devi montarlo per ora ho preso solo il primo volume credo lo continuerò il mio primo volume di Ikari essendo Ikari capito Record of Ragnarok quando hai voglia di qualcosa di Tamarro Record of Ragnarok è una garanzia come la pepata di crozze di zia Pina andiamo avanti dove vuoi andare alla regia ok qui abbiamo Steins Gate e Steins Gate Zero attenzione qua più Uzumaki si fa le seghe eh Zero una bella lettura Hell's Paradise concluso molto molto bello qui abbiamo delle novità di Panini che devo ancora leggere ad essere onesta quindi non vi sto dire niente poi abbiamo Noise anche questo lo devo ancora leggere anche se l'ho preso un po' di tempo fa e anche All About J non l'ho ancora letto Randaggi mi è piaciuto ma onestamente mi aspettavo un po' di meglio Giuseppe la Tigre dei Pesci l'ho adorato la maschera di Innsmouth l'ho adorato Alma l'ho preso una vita e mezza fa devo ancora leggerlo ma non importa Parasite in Love non mi è piaciuto poi abbiamo questi la meraviglia la poderosità innocenta c'ho già fatto un video andatevelo a guardare non fate i lavativi poi Climber Mario Scafroia dice che enormi Beatrice madonna non permetterti mai più sospeso fuori via sospeso vai a riflettere vai molto carino siamo addirittura d'arrivo mi è piaciuto di più nonostante però devo dire la verità i diari della speziale lo amo leggetelo non fatevi ingannare avete visto che bello riduzione che è povera accitudine dove andiamo dove andiamo hai saltato questa parte quella parte ah hai saltato anche quella parte ma che regia di merda stai facendo Paolo abbiamo caro fratello poi abbiamo Paro dai Paolo trattato una merda perché l'Aikeda è vicino alla Yazawa non c'è un senso logico non c'è un senso logico Chobitz perché non è non c'è un senso logico Smile Danderanui carino vabbè poi abbiamo Rosenblad Vampiri Trash ogni tanto ce l'abbiamo visti questo lo guardavo l'anime in gioventù Arukana Oshizorani basta voglio vedere il manga l'ho comprato una vita fa devo ancora leggerlo L'imperatore del Giappone sempre di Ippocampo molto carino non sono usciti altri volumi dopo questi due la luna secondo me non esce più Underdogs ok sì Underdogs questo qui me l'hanno regalato in fiera però devo ancora dire che è morto sono onesta totalmente l'edizione vecchia l'ho amato un'altra copia di Elusive Samurai non so che sia qui e non qui va bene una è la regola l'altra è la variant dice il 16 febbraio esce il 3 e il 4 però l'1 e il 2 sono usciti a giugno l'1 e il 2 sono usciti a giugno del 2022 dopo 8 mesi esce il 3 e il 4 un po' tanto tale che è una storia di samurai che non credo che continuerò della Goin Sanctuary che mi piace un sacco e l'edizione oh è troppo mortale troppo bella completa incredibile di Death Note l'edizione ancora più povera quella di Paolo bravo Paolo fatti valere fatti valere non si trova Boyz Abyss che è crollato tutto caduto e Claymore anche il 2 di Claymore è nel mio comodino vabbè è più o meno in ordine tutto Black Butler che devo che devo riordinare perché era giù la porta allora Bea fermi fermi Bea ti prego stamm'assento Bea stamm'assento allora Maul ferma libri in acrilico sono un 8x8x10 sono trasparenti io li uso per le mie librerie sono la fine del mondo costano 7,80 sono scontati sono perfetti lisci trasparenti li puoi mettere come vuoi infatti io a volte li metto anche di fronte tipo qualche collezione che ho li metto in una maniera diversa sono la gioia li preferisco trasparenti perché posso anche fare il trick che appunto li metto di fronte e riesco a vedere comunque i libri perché qua dietro per esempio vabbè adesso è casino qua dietro tutti quelli che si reggono vedete tutti quelli che si reggono vedete c'è il vuoto là si regge perché si regge perché ci sono quelli trasparenti un po' dappertutto dove serve ci sono quelli trasparenti che reggono e se io volessi metterli prova pratica prova pratica e immediata vedete trasparenti bellissimi se io per qualche misterioso motivo diciamo nella mia schifosa inutile merdosa cazzosissima vita del collezionista stronzo dicessi oggi voglio cambiare che vedete voi qua dove vedete voi qua qua diciamo qua va diciamo qua voglio cambiare perché voglio un po' di spazio in più qua c'è il sparadise molto bene c'è il sparadise lo voglio mettere così eh ma così poi cascano no cascano no cascano di sotto e invece no perché io ci metto questo casca così casca così non casca guarda qua la percezione guarda 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 non casca cazzo a me i manga sulle maghette mi fanno proprio schifo quindi abbiamo Sailor Moon mi mostro due volumi perché sono povera sono per mal 5 però Sailor 10 ovviamente poi abbiamo un po' di coupon due volumi non penso proprio quanti ne sono scusate 8 10 12 ne mancano un po' di più più di due molto carine grazie Bandai e una bellissima versione di Sailor Moon scendendo abbiamo Kodomo no mocha adesso se non sbaglio hanno rifatto un'edizione molto più fica però anche questa mi piaceva della Dynit Cardcaptor Sakura Spiro Fore grazie mille e cinque mesi molto molte volte e Utena che mi piace un sacco è una figura molto molto pucciosa di Sakura le bipapas sempre top delle guerriere Sailor ma soprattutto il mio piccolo altarino dedicato a Minako unico vero protagonista di Sailor Moon impazzita non sapete perché studiate studiate no fatemi sapere che vi faccio un video abbiamo poi Lady Oscar ma perché stanno non hanno riporsa di Mirka Andolfo e sopra lo Shikishi di Oshimi perché qui non lo so sistemerò perché questa in realtà è la mia parente dedicata alle maghette vedo Madoka top della gemellina carina e c'è anche un ventaglio di Elusive Samurai che non so che l'ho messo qui vabbè poi lo sposto abbiamo il cartonato di Sakura e soprattutto il mio amatissimo Madoka Magica di cui per ora solo questo ma sto aspettando una figure decente di lei a un prezzo umano e degli altri poster e poi raga l'altarino dedicato ad Asuka a breve arriverà la nuova pop parade preordinata simile a questa della sega con Asuka adulta ovviamente piano piano ho intenzione di ampliare e c'è un Silvion selvatico perché solo una creatura fatata come Silvion può abbinarsi alla nostra regina alla nostra dea la nostra ma perché tieni pure gli scatoli ma togli gli scatoli Asuka è finita raga manca solo la stanza della vergogna venite ok vediamo la stanza della vergogna ma qua ci sta il meglio ma qua ci sta il meglio ma qua ci sta il meglio questa è la roba di Paolo il completo non c'è 100 year quest però è Raid quindi questo è più o meno l'autore poi abbiamo di Toriyama tutto Dragon Ball e dei volumi vai ed eventuali tipo l'anime comics Toriyama World poi abbiamo anche Dragon Ball Super solo i primi volumi poi ha detto Paolo Bergogna che c'è 30 anni e poi abbiamo Zitta Zitta Dragon Ball si legge sempre Pokemonoro Pokemonoro Paolo Paolo siamo fratelli Pokemonoro 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 e questo è Nintendo vero e non è Nintondo questo è Nintendo vero non Nintondo Naruto completo che avevo iniziato ad ordinare ma poi ho detto non ce la posso fare e anche questi li devo ancora ordinare sto parlando di Soul Eater e Hunter 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 è una meraviglia allucinante sto storto abbiamo Sayuki anche questo è ancora da ordinare sì lo so ragazzi ci vuole tempo è faticoso e Kenshin che è anche quello è da ordinare e anche Ramba anche quello è da ordinare anche un po' di là muo vedo però Bleach guardate Bleach ordinato ordinato incredibile per numero raga 74 numeri messi in ordine cioè io merito un applauso c'è anche un numero con un colore strano però è quello di Ulchiorra non ho mai capito perché questo volume ha il numero diverso però c'è l'unico vero protagonista Ulchiorra YouTube meritavi di meglio ok raga abbiamo finito è stata faticosa non ce l'abbiamo fatta quindi ora posso sciogliermi la chioma ovviamente scioglieri trecce e cavalli vai vai sono tutti i manga che ho letto e c'è solo un fan fact che vi racconto qui in chiusa ma prima ricordatevi di seguirmi su tutti i social trovate il link qui sotto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale thank you so much quando ero piccolina leggevo tantissimo e la maggior parte delle cose me le prestavano amici in particolare Vicky sempre quel meme del canale quindi adesso mi rendo conto di essere a volte un po' compulsiva di far fatica anche a buttare via certe cose però datemi pure dei consigli di lettura diciamo che le due cose che io voglio fare quest'anno in questo 2023 sono sicuramente andare a rinsaldare alcune conoscenze di autori storici che magari per ora per questione di interesse mancanza di tempo o di denari non avevo non avevo collezionato soprattutto e poi riuscire a tornare un pochettino a tutti quanti becca soprattutto approfondire sto problema dei denari delle emancipazioni femminili nel manga sono due tematiche che a me stanno particolarmente a quale detto questo raga io torno da aiutare mi raccomando ottimo proposito da parte sua vi ricordo di nuovo il codice sconto del 5% di Bea su manga.io se volete ampliare la vostra collezione chi lo sa chi lo sa se per i prossimi 2500 qualora ce ne saranno ancora altre tanti organizzerò in maniera veramente intelligente la collezione manga non lo so questo video ci tenevo a farlo anche per ringraziarvi di questo traguardo che magari è un piccolo numero per voi però per me è una soddisfazione perché non avendo i mezzi sto registrando dal cellulare con la memoria costantemente piena e con un'illuminazione che non è proprio al massimo della vita non ero sicura di riuscire ad arrivarci quindi vi ringrazio davvero di cuore lo girerò pure io col telefono non ti preoccupare allora 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 lei quanti iscritti ha 6460 in questo momento allora facciamo una bella cosa qui c'è il canale di Bea io lo lascio in chat voi che non vi siete ancora iscritti al suo canale iscrivetevi sono sicuro che forse qualcuno si è iscritto però vi trovate iscrivetevi vi lascio il link in chat anzi lascio pure Nicolas questo questo impegno ottimo vado a segnalarla alle autorità locali perché mette male i manga no 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 iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi